salve a tutti sono alda del core consulente immobiliare remax stella polare top producer dal 2005 il vostro miglior compagno di viaggi per voi che dovete vendere o acquistare casa dove mi porto oggi siamo a valenzano in questo bel parco giochi e alle mie spalle ci sono tutta una serie di negozi abbiamo la scuola superiore il de viti de marco e a pochi passi la stazione ferroviaria oltre che le fermate dei pullman ma cosa andiamo a vedere andremo a vedere via papà paolo sesto un trebani con dei bei terrazzi da vivere anche tutto l'anno il posto è tranquillo cercasi nuovi proprietari che amino tornare a casa e godersi la tranquillità venite con me prego entrate e respirate l'aria accogliente di questa bella casa questo terrazzo non esprime tranquillità ora desidero portarvi a vedere anche le altre stanze seguitemi la casa è vicino alla tangenziale e in pochi minuti vi porta in città ingresso soggiorno comodo luminoso ed è vicino alla cucina che affaccia su due terrazzi dove potrai godere le belle giornate che ci regala spesso la nostra regione e c'è anche una comoda cappottiera due spaziose camere da letto due bagni uno con vasca e l'altro con box doccia per tutti i gusti e sono ben disimpegnati dalla zona giorno video sorveglianza nel portone e nel garage e a completare questa bella casa un posto auto coperto e una cantina finalmente dopo una lunga giornata di lavoro corri di qui e corri di là siete arrivati nella vostra casa un'oasi di pace importante non ci sono barriere architettoniche e la costruzione è coeni famoso costruttore ai ninni non posso dirvi di più dovete per forza venire a visionarla e io vi aspetto con gioia